Musica Ciao ragazzi sono Andrea e tra qualche secondo vedremo qualche magia di Nicolas quindi iniziamo Ok ragazzi direi di andarci a sedere su quella panchina quindi andiamo Quando vuoi qui dirmi stop, guarda la carta e ricordatela Ok Va bene? Si Ok la vado a mettere in mezzo al mazzo e la distratto Adesso per la prima volta dimmi la carta che hai visto Il Joker Il Joker? Si Perfetto Sarebbe veramente impossibile ritrovare esattamente il Joker all'interno della carta Oh Esattamente il Joker Ragazzi adesso provo a fare qualcosa di pazzo andrò a fare street magic alla gente direi di partire andiamo 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 Ok Ok Ehm Ehm Nooo Nooo Aspetta Aspetta Proverò a fare qualcosa a rimediare il mio errore Apre la mano qui Ok Ok Va bene Ehm 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 Si Abre Abre Grazie a tutti.